Diretta eh? Grazie Ecco Hai visto dove abbiamo portato? Non c'è il fuoco al pomo Non c'è La fortuna quanti fuochi ci stanno? Cinque Ma che qual'è la? Che significa? Perché si fa il fuoco? Perché l'usanza c'è sempre stata, non lo so Una veglia e preghiera per mantenersi svegli E qui per mangiare E qui per mangiare L'ho detto a mia mamma Sì anche noi da giovani lo facevamo Non è non se lo ricordo Ah per o meno Non si ricordava il motivo Segno purificatore e di buon auspicio Cosa? Un segno purificatore e di buon auspicio Grazie 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 Grazie